Enna Nissa si giocherà a porte chiuse. La decisione è stata presa dal prefetto territoriale di Enna dopo i disordini dell'andata per scongiurare ogni rischio di turbativa dell'ordine e la sicurezza pubblica. Lo comunica la Nissa sulla sua pagina Facebook, dove annuncia che il prefetto di Enna, alla luce dei gravi episodi di violenza di cui si è resa protagonista anche la tifoseria ennese in occasione dell'incontro di calcio disputato a Caltanissetta lo scorso 13 novembre, ha disposto che la partita di calcio Enna Nissa, prevista per domenica 12 marzo allo stadio Gaeta, si svolga in assenza di spettatori. Il provvedimento è stato assunto per scongiurare ogni rischio di turbativa dell'ordine e la sicurezza pubblica, in linea con la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.